Cosa c'è di meglio di una pizza comodamente mangiata a casa? Gli ordini sono tanti e in punti disparati della città. Da sempre, il sogno del pizzaiolo è consegnare a domicilio pizze ottime come mangiate in pizzeria. Per riuscirci, la soluzione è Redbox. Diminuisci i tempi di consegna e porti a casa pizze sempre calde e fragranti. Grazie alla tecnologia di Redbox, potrai mantenere inalterata la qualità del tuo prodotto per tutto il tempo necessario. Rendi i clienti felici e soddisfatti. Le pizze saranno come appena sfornati. Aumenti il raggio d'azione senza tornare in pizzeria dopo ogni consegna e la pizza resterà eccellente. Redbox è il tuo nuovo alleato. Aumenti le consegne e migliori il tuo business. In questo modo ti farai ricordare per la qualità del tuo prodotto anche a casa. Redbox è disponibile in due versioni. Scopri la più adatta alle tue esigenze. Richiedi un preventivo e migliora la produttività della tua pizzeria. Grazie. Grazie.